Moristano, sto aspettando la mia amica Salamandra, sono arrivato un'ora in anticipo, doveva arrivare alle 9 e mezza, ma ho preso quello prima, credo che fra mezz'ora arrivi. Sono qui con Elisa, una delle prime persone con cui ho parlato su TikTok, ci vuoi dire qualcosa? No. Ok. Qui c'è un ipogeo sotto la chiesetta, è chiuso, ho provato a chiedere informazioni al bar, mi hanno detto che non c'è nessuno, io speravo che uno di questi avesse le chiavi e potesse aprire, ma ovviamente ci sono probabilmente anche dei problemi di sicurezza, visto che è un luogo che non è supervisionato, quindi aprire i siti il prima possibile.